gigione grande gigi ma innanzitutto mi manchi e quindi no ti volevo veramente congratulare perché mille partite non lo so quanto merda e ha dovuto mangiare però mamma mia che fenomeno è questo che la gente non sa come i sacrifici alzarti ogni mattina per arrivare a quello punto lì per questo io ti rispetterò per sempre sei una leggenda in alla mente quando ti vedevo saltare come un bambino di 15 anni ho questo qua fame e mi piace è stato un piacere giocare con te quindi grande no ultima cosa ultima cosa capitano hai ritrovato quello che mi aveva disturbato in chiesa non ridere perché è importante trovalo e di lui di non disturbarmi più in chiesa per favore forza gigi grande gigi hey i love this game